Ok raga, ieri me lo sono preso di pausa, oggi ci facciamo un video bello bello tranquillo, vi lascio un po' di match in sottofondo nel mentre che parliamo, e parliamo dell'argomento che mi avete chiesto un po' di più negli ultimi tempi, sia qui su Youtube, sia su TikTok, sia nei vari social, insomma l'uscita di 17, cosa ne pensi di 17? Cosa ne pensi del nuovo tag Universe Rep e secondo te in quale direzione stiamo andando comunque con Legends? Ok allora intanto mettete il video in pausa e ditemi voi cosa ne pensate di queste cose perché chiaramente se me lo dite dopo poi c'è uno potrebbe essere un attimo condizionato, ditemelo subito, poi eventualmente dopo ci fate l'aggiunta, fate modifica, che cazzo ne so, insomma vedete voi Allora premesso che 17 l'ho schippato, perché l'ho schippato? Per due motivi, per tre motivi, primo è che mi sono azzerato completamente su Gogeta, proprio a zero totale, quindi sentivo proprio la necessità di riaccumulare un po' di crono perché non mi piace stare con poche crono, cioè è un po' come i soldi no? Quando hai i soldi nel portafoglio e basta e non hai altro, proprio non hai niente da nessun'altra parte, sei sempre con l'acqua alla gola, sempre con le pezze al culo, quindi preferisco averci un buon capitale che possono essere 20.000, 30.000, 40.000 e poi quando vado a pullare me ne sto bello tranquillo Ho fatto questo ragionamento anche perché 17 comunque è un personaggio che mi interessa relativamente, cioè allora dipende Il torneo del potere, il nuovo tag Universe Rep, Universe Survival Saga, quella roba lì mi interessa, però 17 inteso come androide non me ne può fregare di meno Io schippai anche gli androidi tag switch per farvi capire, quindi il fatto che possa essere forte o meno non me ne può fregare di meno E poi l'ultimo motivo è che il banner fa completamente cacare o quasi, mi interesserebbe Jiren eventualmente come LF aggiuntiva ma gli altri personaggi zero totale Comunque sto valutando se pullarci perché comunque vedo 17 come un'apripista a questo nuovo tag Universe Rep che per ora è semplicemente l'accorpamento del Universe Survival Saga e della saga di Ciampa L'unica differenza è che non è un episodio ma è proprio un tag, quindi vabbè ci sarà un motivo per cui lo hanno messo, mi auguro che abbiano in mente qualcosa Quindi nei prossimi giorni deciderò se pullarci o meno, vedrò anche in base ai 17 che mi troverò contro nel PvP Perché? Perché non ne sto trovando e mi sto chiedendo il perché non ne stia trovando Non ho giocato tantissimo però comunque sono tipo in top 5000, 6000, qualcosa del genere Quindi una top non eccelsa ma comunque che non fa schifo e io credo di aver trovato due 17 in totale Uno è quello che avete visto nel video su TikTok che sinceramente mi ha lasciato un attimo perplesso perché l'ho polverizzato completamente con Gohan e Gogeta E invece io mi aspettavo di trovare un tank disumano come leggevo dappertutto, invece l'ho disintegrato totale, l'avete visto nel video Poi oh quello magari sarà stato buildato male, sarà stato quello che volete però Cristo l'ho veramente annientato totale Poi alcuni mi dicono eh sì ok ma te hai 18 stelle rosse, hai gli equipaggiamenti del budello di Gesù e hai la Zenkai Bench È vero però è anche vero che è sempre lo stesso team che gioco e che mi trovo contro anche altri team che magari incassano di più Cioè una pan avversaria, no vabbè ho fatto un esempio del cazzo perché se guardate i video anche di là e anche qui però Le ultime pan che ho trovato le ho one shotate tutte di special move quindi o di ultimate quindi è un esempio un po' effettivamente che non calza tantissimo Però il senso è che si trovano personaggi che tankano davvero Mi aspettavo di trovare un tank mostruoso come tutti mi avevano detto e invece per quei pochi che ho trovato non è stato così Ripeto sarà stato un caso magari saranno stati buildati male però ancora dico top 5-6000 non è eccelsa ma non dovrebbero esserci completamente solo quelli che non sanno neanche buildarsi un team Quindi boh mi lascia un po' perplesso questa cosa Poi per quanto riguarda il tag Universal App come ho detto per ora sembra solamente l'accorpamento Non è che sembra è l'accorpamento della saga di Ciampa del torneo insomma quello là e del torneo del potere Però mi aspetto a breve cioè mi aspetto che si vada nella direzione di Goku e Freezer Tag Perché? Intanto perché è uscito 17 17 è proprio quello che insieme a Goku e Freezer combatte contro Jiren Quindi lo vedo proprio bene come ipotetico team futuro Quello con Goku e Freezer Tag 17 che immagino sarà un must in quel team lì E poi un altro diciamo indizio che poi magari non ci incastra un cazzo Però indizio che mi è venuto in mente è il ride contro Jiren Quindi stranamente cioè mancano proprio Goku e Freezer a questo appello Non credo che facciano uscire un Freezer a solo oppure un Goku da solo Potrebbero anche però il diciamo la ciliegina sulla torta per questo Universal App Che vorranno valorizzare in qualche modo Se no che cazzo l'hanno fatto uscire a fase e devono metterci solo personaggi fuffa varia Ci vedo bene Goku e Freezer Tag È vero che Universe Rep non è Universo 7 Quindi ci potrebbero stare altri personaggi Ci potrebbe stare una Kefla Cioè nel senso il Fusion avrà 3 Ultra Ma sinceramente l'ho provato e sì non fa schifo Però non è sicuramente al top della forma Quindi sì ci potrebbe stare una Kefla Come rappresentante anche lei del Universe Rep Ma anche come aiuto al Fusion sì Però alla fine ci vedo comunque l'uscita di Goku e Freezer Tag È troppo presto per una unità Tag Switch Direi di sì ma dico di no Perché direi di sì perché ne abbiamo avute due al Festival Quindi uno dice ok ne sono uscite due al Festival Ora basta ora è troppo presto Dall'altra parte però dico ok ma proprio perché ne hanno fatte uscire due Che ci dovrebbe far capire che quando gli pare ne fanno uscire un'altra Cioè non c'è più l'attesa di tre mesi come si faceva prima Eh no devono passare tre mesi per l'uscita tra una Tag Switch e l'altra Eh devono passare tre mesi per l'uscita da una Ultra e l'altra Cioè a parte non ci ho mai creduto a queste cose Nel senso mi sono sempre sembrati tempi Diciamo sì di diciamo misurati Ma non che per forza di legge loro dovessero rispettare quei tempi lì Cascasse del mondo Cioè no Però in questo caso la doppia uscita al Festival Mi fa pensare che quando gli pare ne buttano fuori un altro Quindi io dico Goku e Freezer Tag Non per forza alla prossima LF Ma magari a quella dopo Anche perché non credo che portino avanti Personaggi Universe Rap per otto mesi Credo che lo faranno per due mesi, tre mesi Cioè non credo che vada avanti all'infinito questo Tag Ma non credo neanche che lo mozzino subito con 17 Cioè l'hai fatto uscire ora valorizzalo un attimo Quindi mi aspetto un'altra unità Universe Rap O anche due Ma direi al massimo due Poi credo che si cambia argomento E ci vedo bene Goku e Freezer Tag come finale Come proprio ciliegina sulla torta Per questo, diciamo, questo arco narrativo Universe Rap Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate Sia di 17, se lo avete trovato Se il vostro tank a merda Se sono io che ho trovato gente Diciamo, insomma, che aveva buildato il team a cazzo Cosa ne pensate del discorso di Goku e Freezer Tag? Dove pensate anche voi che si stia andando con questo Universe Rap? Insomma, vabbè Ditemi voi, dai, parliamone un po' E magari eventualmente se ne riparterà poi in un prossimo video Grazie Grazie